Un saluto da Ponte News. Sabato 26 febbraio è stato l'ultimo giorno di apertura dei centri vaccinali di Ponte Corone che ricordiamo essere attivo dal 5 di giugno del 2021. In merito alla chiusura temporanea del centro vaccinale di Ponte Corone abbiamo intervistato Rino Feltri, assessore al bilancio e al volontariato. Servizio. Intanto ringrazio Ponte News per l'opportunità. È una dichiarazione di fine attività. In accordo con il distretto sanitario e con le autorità dell'Asla abbiamo deciso di sospendere temporaneamente l'attività vaccinale per il basso numero di richieste che ci sono. L'attività è solo temporaneamente sospesa e siamo tutti in stand by pronti a ripartire nel momento in cui ci sarà bisogno. Intanto questa attività ci ha dato grande soddisfazione. Ha dato grande soddisfazione a noi che abbiamo operato all'interno del centro vaccinale e come riscontro abbiamo avuto la soddisfazione dell'utenza, di quelli che sono venuti a vaccinarsi da noi e che ci hanno espresso la loro gratitudine. Al centro vaccinale di Ponte Corone hanno operato 50 volontari, variamente alle varie figure professionali. Qui vedete rappresentati 50 volontari, volontari amministrativi, volontari dell'accoglienza, volontari della protezione civile, infermieri professionali e medici. Tutti strutturati sulla base del volontariato, tutti senza nessuna retribuzione. Questo è il valore aggiunto che il nostro centro ha potuto mettere in azione. In questo periodo siamo stati di supporto, seppur una piccola goccia nel grande mare della pandemia, ma ci sentiamo comunque partecipi del risultato anche di quello che è stato a livello nazionale. Per parte nostra abbiamo vaccinato più di 4.000 persone e non abbiamo mai avuto criticità. Le uniche criticità, se così si possono chiamare, sono state nella gestione della piattaforma informatica che comunque siamo riusciti a superare grazie ai ragazzi che hanno fatto la parte amministrativa che si sono interessati e hanno imparato ad utilizzare questa piattaforma molto complessa. Siamo stati fatti oggetto nel tempo da intimidazioni, da minacce, da scritte no-vax. Ognuno è libero di pensarla come vuole, di esprimere le proprie opinioni in un regime democratico come il nostro e tuttora lo è ancora, nonostante quello che sta succedendo nel mondo. Siamo stati fatti oggetto da questi no-vax, i quali potevano esprimere liberamente la loro opinione, dato che in Italia c'è la possibilità di esprimere la propria opinione. Hanno preferito di notte andare a devastare dei beni pubblici con delle scritte, diciamo, che io assolutamente non condivido. Io chiudo questa esperienza che è stata un'esperienza fortemente positiva e motivante, si è creato un gruppo in cui la relazione di aiuto all'interno è stata il collante, ma soprattutto si è creato un gruppo all'insegna dell'empatia che ha portato tutti i volontari a dichiararsi disponibili nel caso ci fosse una nuova chiamata. Lasciatemi esprimere in questo momento anche il mio sconcerto per quello che sta succedendo nel mondo, per quello che sta succedendo in Ucraina. Un regime autoritario come quello russo sta portando alla distruzione uno Stato democratico eletto dalla gente. Noi tutti dobbiamo essere partecipi di questo dissenso e manifestarlo nelle sedi e nei luoghi che riterremo più opportuni. Io ringrazio ancora Ponte News per l'opportunità che mi ha dato di fare questa dichiarazione finale e comunque personalmente, ma a nome di tutti quelli che hanno partecipato, ci rendiamo disponibili per una eventuale nuova emergenza. Grazie a tutti. Per ora è tutto. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Arrivederci. Grazie a tutti.